Penso che oggi sono qua e quello che dico io può rappresentare anche quello che pensa anche i giocatori, la squadra, il mister e anche il presidente. E' un anno che aspettiamo di giocare questa partita, sicuramente in questo momento sapete bene che voi ci sarebbe di parlare di tante cose, però penso che mancano pochi giorni in una partita importante che come vi ho detto è un anno che questa squadra corre per raggiungere questa possibilità di giocarsi una partita così importante dove ci saranno sicuramente delle grosse emozioni, penso che il calcio è qualcosa che ti da, ti toglie, ma sicuramente la cosa più bella è che ti fa provare delle forti emozioni, queste partite si giocano sicuramente per ognuno di noi, per se stessi, ma soprattutto si giocano per i tifosi, per la città, quindi io sono contento e penso che la squadra abbia una grande voglia di andarsi a giocare questa partita, partite così è bello giocarle e non è bello vederle da casa come magari ci è capitato l'anno scorso, quest'anno abbiamo sudato per meritarci questo e aspettiamo ancora qualche giorno, visto che è un anno che aspettiamo questa partita, aspetteremo ancora qualche giorno con la voglia di dare tutto quando saremo chiamati. Di sicuro il Bari arriva in un momento dove in questo finale di campionato ha fatto sicuramente molto bene, però io penso anche che quello che succede in queste partite, soprattutto nella partita secca, è qualcosa che non so se è già scritto o non già scritto, però sono partite particolari, quindi sicuramente incontriamo una squadra molto forte, una squadra che già l'anno scorso ha fatto i play-off, quindi sono abituati magari a giocare partite di questo tipo, però ripeto sono partite strane, partite particolari, però noi abbiamo voglia di giocarla. Io penso che in questa situazione bisogna prima di tutto usare il buon senso, secondo quanto penso io, a tre giorni di una partita così importante cambiare qualcosa penso che sia la cosa più strana che potrebbe succedere, nel senso che se in due mesi di analisi di questa situazione non è stata presa una decisione definitiva, non penso che a tre giorni a fine campionato e a tre giorni una partita così importante, io penso che ci sarà modo probabilmente se gli organi disposti vorranno fare altre valutazioni, ma non a tre giorni prima di una partita, nel rispetto anche non solo di una squadra o di chi ha lavorato per questo obiettivo, ma penso anche nel rispetto di una città e di una tifoseria che, come dici tu, è in fila ai botteghini. Sicuramente al Bari non è stato regalato niente, anzi, poi voglio andare nello specifico, ma non è questo quello che mi interessa, tra l'altro il Bari in 42 partite ha avuto due rigori, quindi non è che ci siamo stati spinti a fare altro, quello che abbiamo fatto lo ci facciamo guadagnato, quello che non ci siamo riusciti ad arrivare l'abbiamo lasciato per terra, queste sono le statistiche, queste sono cose che rimangono, sono oggettive, non sono soggettive, io sono fiducioso perché questa partita abbiamo voglia di giocarla, ha voglia di giocare la cittadella, sicuramente l'arbitro che sarà sarà all'altezza perché penso che anche per un arbitro prestigioso venire a arbitrare una partita come questa, quindi non voglio pensare a cose negative che magari in questo problemino che c'è o questa discussione che ci sono poi si ripercuotano sul campo, in campo vanno dei professionisti, i giocatori, l'arbitro e saremo tutti all'altezza di questa partita. Questa è una partita dove ci sarà pressione e tensione per tutti i giocatori e anche per l'arbitro, però io penso che questa è una partita dove chi verrà ad arbitrarla avrà la voglia di venire a giocare questa partita perché è una partita prestigiosa ad arbitrare, quindi oggi è giusto che noi dobbiamo pensare a fare bene quello che sappiamo fare, cercare di mettere tutto in campo quello che servirà per portare a casa un risultato positivo, come farà il Cittadella, io penso che una partita così importante anche l'arbitro vorrà fare una grande partita, quindi non voglio pensare a altro perché se no sarebbe in questo momento invece di caricarci ci butterebbe giù e invece noi dobbiamo arrivare alla partita più carichi possibili. È una squadra forte, è una squadra forte che viene da un ciclo di 3-4 anni che ottengono dei risultati dalla promozione, poi dopo hanno continuato con ottime stagioni in Serie B, sia l'anno scorso che hanno fatto il play-off e quest'anno che l'hanno riconfermato. Sicuramente è un ambiente completamente diverso da Bari, è un ambiente dove la squadra diciamo che ogni anno parte senza pressione perché tutto quello che ottiene penso che vada bene, però questo non vuol dire che loro non sanno, anzi sanno benissimo che è una squadra che può giocarsi le proprie carte per andare in Serie A, sicuramente. Ma noi sappiamo che siamo forti, che loro sono forti, ma proprio per questo motivo è giusto parlare di questa partita come è una partita che il Bari è arrivato a giocare perché se l'è meritato, perché le squadre che sono in play-off sono squadre forti. E noi siamo arrivati a giocare in play-off perché abbiamo dimostrato di esserlo anche noi. Io oggi sono venuto qua solo per dire che tutta la società, tutta la squadra, tutti i giocatori, il mister e tutti noi siamo felici e orgogliosi di andare a giocare questa partita. Perché è un anno che lavoriamo per questo, con la speranza che ce ne saranno altre, però io penso che questo è quello che vorrei trasmettere alla gente ripetendo che sabato pomeriggio sicuramente ci saranno delle belle emozioni, le emozioni possono anche essere, ripeto, una lacrima di tristezza, una lacrima di delusione e una lacrima di gioia. Se stavamo a casa sul divano non le avremmo provate, quindi andiamo a prepararsi e a giocarci questa partita perché deve essere un giorno bello per i tifosi del Bari.